Io devo ringraziare tantissimo un mio iscritto che si chiama Gabriele per avermi trovato questa fantastica sciarpa della Fiorentina che metterò al collo per portare un po' di fortuna nostra a Fiorentina, è una grande stagione, speriamo di far bene questo è il nostro calendario, quest'oggi vedremo Girona, Chievo e Napoli, nel prossimo episodio Palermo, Atalanta e la Coppa Italia appena sapremo chi andremo ad affrontare e poi sabato prossimo segnatelo perché ci sarà la live con Torino e Roma in cui finiremo poi il calcio mercato, tra l'altro ringrazio ancora davvero tantissimo Gabriele perché è davvero un grande amico riuscito a trovarmi questa sciarpa, la porto al collo almeno finché non riusciremo a mettere la maglietta perché al momento non fa ancora così caldo da stare in maniche corte, però mi volevo ovviamente portare qualcosa della Fiorentina tra l'altro vi chiedo, mi lascerò dei sondaggi per i giocatori da cedere o da non cedere, il primo è Biraghi lo cediamo oppure no? Il secondo è Veretù perché sta facendo bene, è una grande stagione per lui però è forse quello che sta facendo un po' diciamo peggio tra tutti i centrocampisti però è un gran giocatore, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere anche se mandare in prestito lì perché si potrebbe anche provare a pensare e il terzo nome che vi chiedo è Rossi Cosa facciamo con Alessandro Rossi? A noi in momento come attaccante abbiamo Pato e Simeone mi sto trovando davvero tantissimo bene con loro due Rossi ha fatto parecchio bene nella scorsa stagione, in questa un pelino meno non so, fatemi sapere voi qui sotto con un commento risponete mi raccomando al sondaggio, li lascio tutti in alto a destra così almeno portiamo avanti un po' questo calciomercato vedremo già qualcosa nel prossimo episodio anche se nel prossimo episodio vedremo un po' meno rispetto a quello che potremo vedere nella live perché voglio lasciare i sondaggi per un pochino di tempo perché probabilmente registrerò il video di mercoledì lunedì, credo e quindi da lasciare un attimo i sondaggi mettiamo Pezzella capitano inoltre aggiungo un po' di giocatori in area durante i calci d'angolo e per il resto noi possiamo andare a una partita contro il Girona mi raccomando, forza Fiorentina mettetevi comodi ragazzi per questa gara tra Fiorentina e Girona una squadra davvero davvero molto forte la nostra Fiorentina oggi siamo ospitati dal Girona secondo in questo giorno di Europa League un Europa League che ci sta reglando davvero grandi emozioni perché siamo al momento primi nel Girona come ci ricorda anche la grafica siamo a 13 punti, Girona sotto di noi a 11 ai KTN 3 punti, Zulte a 1 siamo già qualificati quindi abbiamo già la qualificazione in tasca resta da decidere il primo posto se saremo noi oppure il Girona il giocatore da seguire è Stuani che ha fatto 5 gol con il Girona si trova quinto come marcatore ovviamente speriamo in bene speriamo di poter passare questo turno come primi più che altro per avere magari un sorteggio un pochino più favorevole ai sedicesimi mettetevi comodi e godetevi questa partita con lancio per Sahan Areola chiude Budebusa, attenzione la palla è per lui Pezzella allarga se lo faccia Pezzella, prova a saltare l'uomo ne salta un altro Pezzella, Pezzella in ara la palla è per Pato Pato 1-0 a Fiorentina si parte così con Alexandre Pato che va anche a salutare il cameraman vedete che questa sciarpa porta fortuna 1-0 non diciamolo troppo presto non vorrei lanciarmi maledizioni ma 1-0 un risultato che per adesso ci vede super favorevoli anche perché il girone dovrebbe farne due per passare come prima nel girone quindi al momento stiamo tranquilli ma grande grande azione di Pezzella che si conferma un grande talento anche nella nostra squadra si conferma nella squadra perché si parla anche di una sua possibile eccessione ma dopo questa azione penso che rimarrà sicuramente palla per Pato da solo Pato 2-0 però è fuorigioco niente peccato Pato si trova in posizione irregolare però bel passaggio bel passaggio per lui la palla filtrata benissimo sì qua il fuorigioco lo calcano sempre abbastanza un po' come gli pare però forse c'era Neresh appoggia per Kenny Tett poi si sposta Tett da solo Tett cerca un compagno in mezzo lo trova Felix col destro punisce il girone non fallisce il tiro davanti alla porta 2-0 un 2-0 che ci mette abbastanza comodi sul divano una partita che stiamo vincendo alla grande il girone ha molto molto schiacciato al momento siamo primi cioè siamo primi già col pareggio però col 2-0 siamo tranquilli non rilassiamoci evitiamo di prendere tre gol in in venti minuti ah sai beh in mezzo per Espinosa la palla rimane lì e Areola in qualche modo oi Ramsey Tett cerca di ripartire la Fiorentina con Benassi lancio per Marino la palla un po' troppo lunga Kangin lì salta molto bene Muniesa lì lì attenzione da uno sguardo in mezzo lì finta però al passaggio in mezzo non arriva attenzione a Benassi Benassi contrastato però da Stuani che non commette fallo secondo l'arbitro Pezzella poi allarga sulla fascia ma l'arbitro fischia la fine della partita 2-0 una partita che vinciamo dominiamo assolutamente perché questa partita siamo riusciti a giocare veramente veramente molto bene inquadrato Stuani che si è visto poco effettivamente in questa in questa gara ma noi vinciamo 2-0 ci portiamo primi nel girone consolidiamo il nostro primo posto e dunque ci qualifichiamo ai sedicesimi Europa League come primi in classifica intanto siamo qui nel nostro menu principale in un attimo bloccato perché ho visto i sorteggi della Champions League ma non erano ancora i sorteggi erano solamente la grafica della Champions League ovviamente noi puntiamo a vedere i sorteggi della nostra Europa League anche perché ci preoccupa un pochino figato perché ci sono delle squadre veramente forti tra l'altro c'è anche il derby quest'oggi Roma Lazio-Roma guadagna 3 milioni l'accessione dei giovani penso della primavera assolutamente quindi però feico non lo tocchiamo non lo toccheremo mai feico guardo un attimo le notizie ma non mi pare che ci sono i sorteggi no quindi niente sono pronti a scoprire i loro avversari ma niente da fare tra l'altro Borussia Mönchengladbach Siviglia Crystal Palace belle squadre ci sono quello quello sì c'è anche il Tottenham c'è il PSV in Doven squadre squadre tostarelle speriamo ovviamente di avere un sorteggio relativamente favorevole per portarci un pochino avanti Lukaku sulla fascia Biraghi vediamo vediamo quest'oggi come si comporta Rugani Lafonte torna a difendere i pali direi giusto Bacayoko forse magari mettiamo un po' nel secondo tempo teniamoli in panchina Marino magari portiamo Rossi giusto per provare anche un pochino lui che dire per il resto la formazione è questa quindi proviamo anche Veretù titolare Veretù e Biraghi titolare indiziati diciamo per una possibile partenza anche perché teoricamente ci sarebbe un'ala sinistra pura fondamentalmente perché Lukaku va bene però a volte un po' così come come tiro come finalizzazione però mai dire mai siamo secondi siamo a tre punti dal Milan che però ha già giocato quindi in caso di nostra vittoria andremo a pari punti con la prima in classifica che al momento è il Milan mettetevi comodi per questa gara la nostra fiorentina quest'oggi andiamo ad affrontare il Chievo Verona in casa una partita che ci vede favorevoli allo stadio Artemio Franchi affronteremo questa squadra una squadra che cerca la salvezza così fa anche nella realtà nella realtà ci sta riuscendo un pochino meno qua abbastanza diciamo è lì che lotta quasi per un posto in Europa League tramite la classifica diciamo che è ancora un po' da vedere questo campionato noi siamo primi come lista del miglior attacco assieme al Milan con 30 poi ci sono Juventus con 25 Roma con 24 un campionato che stiamo assolutamente giocando bene inquadrato Sorrentino che ha 40 anni ancora pronto lì a difendere la porta del Chievo inizia la gara mi raccomando forza fiorentina Simeone Simeone vede Chiesa prova a passarla a lui un filtrante perfetto per Chiesa Chiesa cerca un uomo libero prova Chiesa attenzione Chiesa a giro col sinistro Federico Chiesa ma che gol ha fatto ma che gol ha fatto Federico Chiesa li vediamo qui Sterza salta l'uomo e poi col mancino si inventa un gol clamoroso forse uno dei più belli di questa carriera porca miseria non so neanche come descrivere questo gol davvero davvero molto bello terzo gol in campionato per lui passiamo in vantaggio un gol formidabile Mbaie perde palla Kerrer lancia Lukaku da solo Lukaku cerca di farsi spazio Lukaku la palla in mezzo per Simeone 2-0 è un risultato che ci voleva assolutamente al fine del primo tempo un gol che forse riesce a consolidare un pochino la nostra partita il nostro risultato soprattutto il nostro vantaggio 2-0 col nostro miglior uomo della stagione al migliore marcatore almeno quello si sta facendo davvero tantissimi gol e il nono stagionale quantomeno in campionato sta facendo davvero una grande partita una grande stagione Simeone tra l'altro fatto anche tripletta al Milan quindi cosa non da poco non da sottovalutare assolutamente io non vorrei dire però per adesso questa questa sciarpa ci sta portando bene ovviamente la teniamo salda al al nostro collo io direi di giusto togliere magari Sturaro e mettere Bakayoko giusto l'unica mossa che che farei più che altro perché Sturaro lo vedo un po' un po' così così forse un po' troppo nello scorso episodio vero e tu larga per Chiesa forse in fuorigioco l'abito non vede nulla Piccini cross in mezzo per Rossi 3-0 mamma mia che Fiorentina mamma mia che Fiorentina tra l'altro fatemi sapere se siete d'accordo a mettere la maglietta numero 49 a Rossi perché ce l'aveva Pepito Rossi però visto che anche lui si chiama Rossi volevo un attimo ricordare diciamo Pepito Rossi alla Fiorentina con quella maglietta però fatemi sapere voi l'altro ennesimo gol per lui primo di questa di questa stagione però vero e tu grossi in mezzo per Rossi palla alta non di poco tra l'altro abbastanza di poco perdonati ma l'albitro finisce l'albitro dice che finisce qui la partita fischia il triplice fischio mi sono un attimo imbambolato ma l'albitro fischia alla fine 3-0 mamma mia che partita mamma mia che partita 3-0 netto questo assolutamente si un 3-0 con cui abbiamo veramente schiacciato il Chievo la Roma vince 2-1 sulla Lazio nel derby il Napoli perde in casa col Pescara Napoli che andremo ad affrontare nella prossima partita ma sempre in questo in questo episodio la classifica cita così tra l'altro ecco mettetevi comodi che ci sono i sorteggi Fiorentina contro qua non non compariamo ancora noi contro Mediapol io non vorrei non vorrei dire grandi cose perché poi so già come va a fine però un sorteggio abbastanza favorevole possiamo dirla così tra tutte le squadre che c'erano forse è una delle più più agevoli ovviamente facciamo attenzioni ovviamente non non facciamo cavolate perché vogliamo passare il turno evitiamo di sottolotare l'avversario ovviamente carichi a mille però sono sono abbastanza contento perché ovviamente ho provato di beccare qualche squadra un pochino più forte ovviamente dagli ottavi quarti magari poi ci saranno squadre un pochino più forti però ovviamente speriamo di passare questi sedicesimi offerta per il trasferimento per Ranieri vai solo accetta assolutamente l'offerta no problem avanziamo quasi così con la partita con il Napoli è una partita tosta questo sì il Napoli al momento non è tra le prime sei in classifica però è una squadra che ricca sempre di insidie tra l'altro Sassuolo e Cagliari sono tra le prime sei buon risultato per queste due squadre tra l'altro Cagliari avevo fatto il video sulla mia squadra del Cagliari lo scorso anno se l'avete visto passateci allora formazione questa volta è dura mettiamo Benassi ci portiamo Vdebusi in panchina ci portiamo io porterei Neres sicuro e porterei magari Pato eccolo Pato portiamo Ramsey io direi quasi titolare magari posto di di Baselli Lukaku Simeone Chiesa Benassi Bakayoko Ramsey Pezzella Pezzella Rugani e Tet con in porta la font ci portiamo giusto in panchina Areola evitare magari qualche infortunio o roba del genere porterei in panchina anche Kerrer perché tra l'altro sta facendo veramente molto bene Kerrer nelle ultime due o tre partite ha fatto grandi grandi presezioni mi ricorda quasi un Bonucci come stile di gioco bravo a difendere anche a fare i lanci sono abbastanza contento tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi una cosa ma prima di votare guardatevi tutto l'episodio così votiamo diciamo con consenso anche perché tra l'altro c'è Gaia così da non magari scartare i giocatori con buone prestazioni oppure promuoverne altri con scarse prestazioni e viceversa vi do il benvenuto in questa nuova gara della nostra Fiorentina una gara tosta questo possiamo dirlo con certezza Napoli che al momento sta facendo un pochino di fatica questa stagione ma la Fiorentina si trova prima in classifica Napoli che assolutamente continua a far paura una grande squadra grandi giocatori in campo abbiamo visto anche Aspili Queta giocatore ex Chelsea molto molto forte Napoli al momento ottavo noi siamo primi a più 10 sul Napoli ma stessi punti col Milan bisogna fare assolutamente attenzione a cosa facciamo dobbiamo far attenzione a non perdere punti per strada diciamo che col Napoli possiamo anche concederci l'ombra del pareggio diciamo però non vorrei non vorrei tirarmela assolutamente quindi iniziamo la gara puntiamo a vincere puntiamo i tre punti servono assolutamente per la nostra corsa ormai possiamo quasi dirlo alla vetta alla vetta Paolino inglese di Avarache prova il tiro palla però fuori Simione Lukaku da solo Lukaku da solo può fare tutto lui Lukaku prova il tiro Sepe in calcio d'angolo uff ecco è qui che ci serve ci serve un'ala qua quasi poi per carità è un buon tiro para con col pacco però tra l'altro Pezzella palla fuori anche per lui tra l'altro abbastanza di poco quindi un'ala ci potrebbe servire consigliatemi qualcosa qui sotto nei commenti insignia prova a saltare Roma non ci riesce Diavara la palla però torna all'esterno italiano attenzione la palla in mezzo per inglese e segna la rete del vantaggio partenopeo 1-0 dopo essere stato in prestito al Palma torna al Napoli e punisce la Fiorentina aia questa questa non ci voleva andiamo sotto a Napoli contro il Napoli quindi una partita un po' un po' così così quarto gol stagionale per lui Bakayoko Ramsey c'è Simeone da sola la palla non riesce ad arrivare lui più o meno tacco forse di Simeone Lukaku passaggio perfetto Chiesa da solo Chiesa 1-1 pareggiamo i conti subito dopo la rete del Napoli quasi subito quantomeno grande gol però di Chiesa grande incursione dalla parte destra di Federico Chiesa due gol in questo episodio mamma mia che giocatore ah come gioca Chiesa Budebuse Sturaro Simeone attenzione Simeone che prova il tiro a giro sul palo porca miseria di ora adesso provare di partire ma che tiro ha fatto Simeone dobbiamo un po' imitare Chiesa Neres è entrato da poco Neres da solo cerca di saltare la spilliquetta ci riesce Neres Neres per il gol vittoria Neres palla fuori di poco però palla fuori un tiro che poteva valere tre punti poteva valere davvero tantissimo però peccato non possiamo ovviamente punire un giocatore per una cosa del genere succede capita però peccato Abitro fischi alla fine della partita 1-1 risultato poi alla fine abbastanza giusto per quello che si è visto in campo però Neres che poteva far gol Lukaku poteva far gol però non vado a punire assolutamente questi due giocatori perché sono grandi giocatori hanno dimostrato di essere veramente molto forti nel corso di tutta la stagione andare a punirli ora per per quello non mi sembra il il caso solitamente però direi che poi possiamo andare avanti con gli adamenti proseguiamo con gli stessi poi magari valutiamo se cambiare qualcosa durante durante la live sale Kang Jin Lee molto molto bene tra l'altro fatemi sapere qui sotto nei commenti già dei suggerimenti per il calciomercato qualsiasi cosa vogliate diciamo che ci servirebbe più o meno un trequartista perché Budebus fa bene ma a volte pecca un pochino lì è ancora troppo troppo non dico non maturo però ancora bisogna di mettere un po' di minuti sulle gambe per farli titolare quindi ci potrebbe servire un trequartista ci servirebbe un'ala sinistra questo sì e per il resto siamo relativamente a posto quindi difensore tra un po' arriverà Kowalski sul terzino abbiamo Viraghi abbiamo Pezzella abbiamo Spinazzola abbiamo Teggio abbiamo tutti noi offerta della Polonia che tra l'altro mi intriga parecchio perché ci sono stato due volte in Polonia e ci andrò probabilmente altre volte però sarebbe magari carino credo andarci fatemi sapere voi con un commento Rock Alvarez se ne vuole andare potrei quasi farlo anche andare via non mi ispira così troppo come c'è un dragampista direi lascio la palla a voi fatemi sapere cosa ne pensate se promuoverlo o meno basta sondaggi perché ci sono già 100.000 ma giusto un commentino così mi regolo un attimo per non scartare giovani però non mi sembra granché tre resoconti tra l'altro dei giocatori Bytes lascia la squadra Gori va in prestito molto bene qua abbiamo Montemoro e Chavez ma neanche troppo quindi andrei a scartarli Valerio Romano ci porta dalla Svezia questo Ericsson che non sembra malaccio diciamo che ho visto giocatori migliori però forse questo Ericsson per il resto gli lascerei andare e in Polonia al momento non ha trovato grandi cose possiamo poi pensare di mandarlo nel caso in cui dovessimo accettare l'offerta della nazionale questo si per il resto ragazzi io vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo episodio in cui andremo a vedere Palermo Atalanta ed Empoli probabilmente con calcio mercato Coppa Italia daremo un po' un po' tutto sabato dopo sabato prossimo avremo Torino e Roma vi farò ancora sapere se sarà un episodio normale oppure sarà una live dovete vedere un attimo come riesco ad organizzarmi vi ringrazio ancora Gabriele per la Sharp vi ringrazio per aver visto questo video mi raccomando lasciate un mi piace condividete il video commentatelo io vi ringrazio ancora noi ci vediamo alla prossima un saluto sempre qui da Matex alla prossima ciao ragazzi ciao ciao ciao